Nonostante la crisi economica, molte sono le persone che approfittando del periodo dei saldi non rinunciano allo shopping. Da qualche anno la tendenza per l'acquisto in saldo ha preso il sopravvento e sono molte le famiglie che per far quadrare i propri bilanci hanno quasi azzerato le spese considerate superflue. In tema di economia domestica si cercano i luoghi commerciali dove è possibile usufruire di maggiori promozioni acquistando prodotti di qualità. Tra le mete siciliane preferite della caccia al miglior prezzo, specie per quanto riguarda abbigliamento, calzature ed accessori, troviamo il Sicilia Outlet Village di Agira. Il maggiore outlet dell'isola che con le 91 boutique aperte, di notte griff della moda italiana, diventano attrazione per migliaia di persone provenienti anche da oltre lo stretto. State approfittando degli scondi? Sì, stiamo approfittando, sì. Cosa comprate di più? Qualcosa per i bambini, abbigliamento, sì. E il vostro budget di spese è di? Ma intorno ai 1000 euro circa. È diminuito rispetto all'anno scorso o è aumentato? Uguale, non cambia. Voi venite da? Da Calabria. Come mai siete qui per fare shopping? Sì, sì, sono in vacanza. In vacanza? Sì. È la prima volta che venite in Sicilia? Io è la seconda, è la prima volta. Vi sta piacendo? Sì. Vi piace? Sì, troppo, troppo bello in Sicilia. Ciao. Grazie. Grazie. Il suo budget è di? Non avevo fatto un budget. E finora ha speso? 195 euro. E ha intenzione di spendere ancora? Non lo so, se c'è una cosa che mi piace, l'ultima cosa è un paio di scarpe, poi nient'altro. Qualcosa l'abbiamo comprata? Cosa compra di più? Quello che mi serviva, pantaloni, un giubbotto. Quello che, diciamo, non abbiamo comprato prima, lo stiamo comprando ora. Un abbigliamento adattabile adesso e possibilmente anche in primavera. Un paio di jeans. Tu non ho ancora niente, hai intenzione di comprare qualcosa? No, non trovo la taglia. Due paio di scarpe. Hai intenzione di comprare ancora? E se non finiscono i soldi, sì. Aspetto mia moglie. Che fa shopping? Fa shopping, già una parte è stato fatto, il resto lo dobbiamo ancora fare. Lei non ha comprato niente? Ha comprato solo sua moglie? No, qualcosa anche per me c'è. Cosa ha comprato? Un belettino. Sì, ci stiamo riposando con i bambini. Mangiando? Mangiando pure, sì. Delle patatine. Avete spesso fino ad ora? Non lo so, abbiamo 250. 250. Avete intenzione di spendere ancora o? Basta. Noi, come proposta dell'outlet, già normalmente durante tutto l'anno, come dire, tendiamo la mano al cliente assicurandogli un prezzo che di base è almeno sul 30%, anche qualcosa in più, più basso rispetto al prezzo criterio, rispetto ai prezzi che si trovano nei negozi di prima linea. Questo è di base, quindi vuol dire che ci sono anche negozi che fanno gli sconti anche più alti. Durante i saldi, le percentuali di sconto, quindi 30, 40, 50 e così via, si applicano ulteriormente sui prezzi outlet. Quindi i consumatori riescono ad avere degli sconti reali che riescono a spingersi a percentuali molto alte. C'è anche chi per festeggiare il suo compleanno non vada a spese, tanto a pagare c'è mamma. Il mio compleanno? Sì. Quindi hai comprato cosa? Abigliamento? Tutto. Al shopping mania. Abiti, scarpe, accessori, cinture, e ora manca l'intimo. Suo budget è di? Oggi è limitato. Regalo dei genitori, ne approfitto. Lo faccio con piacere. La mia figlia? Queste altre. Queste d'altra. Queste. Queste. Queste.